Porterò a Sanremo i sapori della mia terra e spero di poter preparare la pizza con le arance di Ribera. Così al nostro telegiornale Giovanni Rafti, il pizzaiolo riberese che dall'1 al 5 febbraio prossimi sarà tra i pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo, il luogo dove si incontreranno i cantanti in gara, i musicisti, i conduttori, i superospiti e le maestranze coinvolte nel Festival di Sanremo dove si svolgeranno le interviste ai protagonisti e dove si porteranno avanti diversi eventi collaterali al festival. Tra questi nell'ambito del format l'Italia in vetrina ampio spazio verrà dato all'arte culinaria italiana nelle sue molteplici sfaccettature. Il compito di Giovanni Rafti a Casa Sanremo sarà quello di preparare le sue pizze per deliziare i palati dei presenti in sala con i sapori di Ribera e della Sicilia. Era un'emozione unica il preparare delle pizze di cantante, personaggi famosi perché ho sempre cercato nella mia vita sin da piccolino di fare un grande passavanti, fortuna col passare il tempo ci siamo quasi tra virgolette riusciti e quindi questo ragguardo sarà molto molto importante. Da buon riberese spero di portare una pizza per la ragione. Che esperienza sarà per lei da un punto di vista professionale? Da un punto di vista professionale avendo tanti colleghi che lavorano con me perché facciamo dei turni, li analizzano molto difficili e molto pesanti. Avere questi ragazzi accanto a me sarà una esperienza nuova perché tutti non vremo mai imparare con la pizza. Per il proprietario del ristorante pizzeria Fellini di Ribera, attività assai conosciuta in tutto il territorio agrigentino, si tratta della seconda vetrina nazionale di prestigio dopo l'esperienza del 2019 alla competizione televisiva Il Boss delle Pizze. Il segreto oltre la qualità è avere passione e amore verso il proprio lavoro. Da lì dai tutto.